Musica Ben ragazzi carico non metto la più spiema oggi ragazzi Siamo qui con Parma Napoli Una partita, un'altra partita di Serie A insomma Dopo la grande vittoria della Juventus per una 0 a Bologna Adesso sono a più 16 Se nel caso in cui dovessimo vincere oggi Toccandoci andiamo di nuovo a più 3 a meno 13 Quindi va giù, diciamo che il campionato A parte la prossima settimana che c'è Napoli-Ju e il big match Diciamo che non ha molto senso per il Napoli Però comunque noi siamo qui a sostenere i colori azzurri Partita dopo partita Perché vincere come diciamo sempre aiuta a vincere Viste che vogliamo vincere qualcosa quest'anno E sapete voi cosa possiamo vincere Amo a vincere Quindi hashtag vincere Comunque se notate qualcosa di diverso Commentate qua sotto nei commenti E chi indovina mister vi metterà un cuoricino Va bene In questo momento ok Prende la mister questo compito Intanto in cominciare la partita Forza Napoli Noi ci crediamo Bello dai Bello Prima della partita Eh l'ho detto Eh l'ho detto Oggi segno Lo sentivo Però lo dava Lo dava a 380 Marcatore E quel cazzo gioca a fare Però Intanto ha segnato Sei L'ho detto Eh sì La prima cosa che ho detto La prima della partita Perché l'ho visto Bello qua L'ho visto Assis design Mamma mia Ma ora Assis design Bella sepe Guarda Luigi Guarda Caesai Guarda Assista Ah Deca Alessandro Altro che Marcello Passato in mezzo a legato Pallo dai Lei ha bella pulizia 1 La voglio metterla No Milik L'ho detto Sì Sì Sotto la barriera Sotto la barriera Milik Sotto la barriera Se ne ha fatti troppi Sotto la barriera Capisci Ma non capace Sotto la barriera Lo detto Sotto la barriera Ma quando mai Caglione tira sopra Sotto la barriera O in mezzo Caglione Guarda con la pizza Hamburger Dai Hamburger pezza GOOOOOO 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 La manella stava io ogni tanto Hai detto Non me nasconde con me Napoli Io guardo la mente La mattina sera GOOOOOO Come l'hai detto Ragazzi Che Napoli Mamma mia Ragazzi Ragazzi Sotto la barriera No non sa fare Imparerà stasera GOOOOOO GOOOOOO Mi hai dato fiducia a Milik E invece Omar si Bravo No bravo sepe che rimane fermo Grande home Ormai l'ospettavista Milik Bravo Arek Bravo home soprattutto Ok finito il primo tempo Napoli Ottimo mi sta piacendo questo Napoli Grande con Milik Finalmente Finalmente mi sta piacendo questo Napoli E niente Milik grande Fino a mo Ottima prestazione Vediamo il secondo tempo come va Dai dai Ok vai Riparte il secondo tempo Forza Ragazzi noi ci crediamo Finisce 4-0 Sempre Vaffanculo tatti Goleata Goleata Dai Vaffanculo tatti Finisce 0-4 Vaffanculo tatti Vaffanculo tatti Infatti stava lamentando ma per il fallo per lui Non per Vabbè giusto Tagliela Tagliela Non ha bisogno di tagliela 3-0 Ho 14 gole 14 E se non ti mangiavi quei gol Potevi lottare con Uuuuuh Fai degli sti Dai Un asse goal Un asse goal Davide 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 Si Ha goleata Ce Bella Davide voglio segna sembra quando io è il clima di adamo naso ok dai bella partita giusto adesso pensiamo alla partita contro la juve poi alla prima cosa lisburgo in europa league e vediamo dai abbiamo delle porte spianate ragazzi diciamo a parte il campionato l'europa league deve essere una bella competizione che ci dovrà giocare fino alla fine e con la juve 7 una prossima ci divertiremo magari facciamo uno scherzetto da togliamo ci sto sfizio sicuramente vinceranno loro e ritornevo a meno 10 quindi ragazzi lasciate un bel mi piace un bel commento iscrivetevi al canale noi ci rivecchiamo un prossimo video bella ragazzi juve arriviamo